Purtroppo vediamo come oggi la figura della donna, in quanto educatrice della Fraternità Universale, sia offuscata e spesso non riconosciuta a causa di tanti mali che affliggono questo mondo e che in particolare colpiscono le donne nella loro dignità e nel loro ruolo. Le donne e perfino i bambini sono infatti tra le vittime più frequenti di una cecca violenza. Sono state forti le parole di Papa Francesco nell'udienza e partecipante all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso che nei giorni scorsi ha discusso sul tema ruolo della donna nell'educazione alla Fraternità Universale. Il Pontificio ha ricordato come odio e violenza siano la causa delle lacerazioni in famiglia e nella società e dell'impossibilità per le donne di svolgere il loro ruolo di educatrice alla Fraternità. Se svolto in modo corretto, ha sottolineato il Papa, la società ne risulta trasformata. Le donne hanno pieno diritto di inserirsi in tutti gli ambiti e il loro diritto aggiunto va affermato e protetto anche attraverso strumenti legali laddove si rivelino necessari. È necessario ancora ampliare la presenza femminile, riconoscendo il coraggio talvolta eroico delle donne nel mettere a disposizione le loro competenze. Spesso restano le sole ad accompagnare gli altri, in particolare i più deboli nella famiglia e nella società, le vittime di conflitti e quanti devono affrontare le sfide di ogni giorno. Grazie al loro contributo, l'educazione alla Fraternità, continuato Francesco, può superare la cultura dello scarto. Infine, l'invito ad esaltare il contributo delle donne non solo negli argomenti femminili, ma anche in ambito interreligioso, perché il dialogo è un cammino nel quale la donna, ha concluso il Papa, può offrire un importante apporto con la sua capacità di ascoltare, di accogliere e di aprirsi generosamente agli altri.